buongiorno ragazzi buongiorno a tutti oggi uovo alla cocca intanto auguri oggi fitta dell'immacolata mangiamo un ovicelio ragazzi ovicelio bello ecco prima ci togliamo la buccia questo qua fate bollire l'acqua appena bolle l'acqua ci mettete l'uovo di tinta e dopo 3 minuti sono pronto uovo alla cocca c'eramo una soccatella di sopra così internazionale internazionale panusso di casa e la mamma di base una due tre e non ammogliamo l'ovicelio buona colazione a tutti e buona domenica